Si torna al ristorante ma con cautela. Le risposte sono più che positive e di gran lunga superiori alle aspettative della vigilia, soprattutto per quanto concerne la ristorazione serale, mentre qualche problema si registra ancora per la fascia oraria di pranzo. I clienti vengono più la sera. La proiezione arriverà dagli addetti ai lavori, da Giuseppe Bono, portavoce del comitato dei ristoranti, proprio nella serata dedicata ai profumi, ai sapori della Valle Peligna con la rete di 45 ristoranti e 15 comuni del comprensorio per rilanciare un settore che ha tanta voglia di ripartenza. Contrariamente alle aspettative della vigilia la gente sta tornando al ristorante ma come ci torna noi abbiamo cercato di cogliere alcuni feedback dalla piazza. No no c'è paura, c'è paura, c'è ancora timore, non paura. D'altronde accendi la televisione, qualsiasi canale metti, ti rampampiscono questa situazione. Professore ci tornerebbe al ristorante? Come no. All'aperto? Sì. Beh, questa psicosi ancora c'è, però diciamo che poi il tempo guarisce qualsiasi situazione, qualsiasi cosa, quindi piano piano ci abitueremo tutti alla normalità, è giusto che sia così. Ma non lo so, un pochetto ci sta, però ci adeguiamo nel senso che magari andiamo a mangiare fuori, i ristoranti chiamano i tavoli fuori. Ecco, voi ci tornereste adesso al... Sì, 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 sì. Dobbiamo comunque ricominciare a vivere, sempre con un po' tela, ma dobbiamo ricominciare a vivere.